Bene, allora iniziamo il sabato mattina, questa mattina presto mi avevano avvisato che purtroppo l'ottico prestugora, cioè la signora Silvia, gli hanno fatto il furto nel negozio, hanno buttato giù la porta e hanno rubato il fondo cassa, credo un centinaio di euro e un paio di occhiali, dalle riprese vedete quello che è successo, io ho fatto le riprese, sono andato a salutare la signora Silvia, ovviamente esprimendo il mio rammarico e lei stessa mi aveva detto che, gli avevano detto che la sera prima c'era nelle vicinanze il famoso delinquente Marco, detto Marchetto Penso, io l'ho salutata, stavo tornando verso casa, ho avuto la malagurata idea di fare la calle, quella diciamo tanto per capirci dell'albanese, quella proprio di fianco e c'era chi c'era lì, il buon Marchetto, io mi sono girato con la bicicletta con la bicicletta, questo qua mi è venuto dietro, mi ha tirato un cazzotto alle spalle ovviamente perché i vigliacchi è una famiglia, proviene da un certo tipo di famiglia che voi sapete, conoscete, ne abbiamo parlato tante volte e sono caduto, per fortuna, adesso ho qualche botta, non mi sembra di avere cose particolari, andrò a mi fermare il collo onestamente, avevo il casco per fortuna, ho chiamato ovviamente le forze dell'ordine, le forze dell'ordine onestamente con tutto rispetto alle forze dell'ordine sono impotenti, cioè qua adesso devo andare a farmi riflettare, devo fare la denuncia, la quarta e questo continua tranquillamente, voglio ricordare quell'incapace del sindaco Mauro Armelao, sottolino incapace, ancora molti mesi fa, quando ritenevo ancora che fosse una persona diciamo di un certo tipo, cosa invece che abbiamo sbagliato tutti a votare quel soggetto, io per primo, gli ho detto, guarda che c'è questa situazione è gravissima, se parlo col prefetto non ha fatto una beata minchia, scusate il linguaggio, tra l'altro il comune, c'è le forze dell'ordine che sono la polizia locale, da regolamento può fare tutti i provvedimenti giuridici e quindi addirittura può arrivare al daspo, non ha fatto una minchia, questo qua gli piace farsi vedere qualcosa di SRC, gli piace fare i selfie, ma tutti i problemi che abbiamo in questa città, dalle buche sulla strada alla gente che non può usare l'autobus per questo qua, sono un anno che deve fare qualcosa con la CTV, il 16, l'ho detto anche l'altro giorno, scade l'ennesimo rinnovo, vedremo quanto ci metterà in conto, perché le corse non le potranno chiudere, perché è interruzione del pubblico servizio, ma ci metteranno in conto chissà quanti soldi, questo sindaco è un incapace, è un incapace, spero vivamente che questa amministrazione vada via prima possibile, è solo un danno, ecco, oltre a questo sfogo che ho ovviamente, ricordo che la famiglia del Marchetto Penso ha un appartamento dato dall'Atter, doveva starci un anno, è due anni che ci sta, ci sono persone che hanno veramente problemi, questi qua non mi sembra che abbiano nessun tipo di problema economico, girano con biciclette elettriche, è l'ultimo modello che costano anche 2000 euro e questi continuano a fare che cazzo che vogliono, cioè stiamo arrivando al punto che veramente un cittadino qualsiasi dovrebbe arrivare a difendersi con le proprie armi, vedremo come andrà a finire. Grazie Mauro del tuo impegno verso questa città. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredobagno e per i rivestimenti per la tua casa, qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio, competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia